buongiorno a tutti ciao oggi sono rimasta in casa praticamente non ho fatto niente ieri dopo la legna ero un po stanca riproduco da galaxy a ventesimi e niente questa cosa sta facendo si è collegato il bluetooth non ho capito perché niente volevo farvi dire vedere un attimo sono stata in casa e sto studiando perché devo ovviamente completare i miei crediti e cm e niente vi faccio vedere che temperatura c'è in questo momento in casa prendo il telefono e vi faccio vedere comunque torno sul divano vedere il mio misuratore di anidride monossido di carbonio scusate ci sono 25 gradi lui dorme divano o fa finta non lo so torniamo qua ecco 25 gradi ho chiuso le valvole sia di questa stufa sia di quell'altra che avete intravisto forse prima 25 gradi sono troppi sinceramente troppi quindi adesso smetto di mettere legna perché altrimenti c'è troppo caldo va bene vi saluto vi auguro buona giornata e a presto ciao a tutti da sandra ciao ciao ciao